Nel weekend definito tutto il quadro dei playoff della Serie A1 numero 101 di Occhipista, l'Ubroker Bassano ha battuto nel turno preliminare la TR Chimica Montebello grazie alla gara di andata vinta per 7-1. In dolore il ritorno perso per 7-6, l'altra qualificata ai quarti di finale è il Tele Amedica al Sandrigo che è riuscita a ribaltare il risultato dell'andata contro Uai Sport Valdagno dal 3-2 della prima gara poi vinta a domicilio per 6-2. Da domani i quarti di finale al meglio delle tre gare con l'inizio alle ore 20.45, a Sandrigo arriverà il centro Porsche Firenze e VH Forte, mentre Bassano del Grappo ospiterà l'Hockey Trissino. Gli altri quarti che saranno giocati in mercoledì sono amatori Wask & Lodi contro Gamma Innovation Sarzana ed il derby Maremano ed il Fox Grosseto e Maremano Cave Follonica. Il miglior giocatore della Serie A1 è stato letto da una giuria di giornalisti, il titolo di MVP Mondo Hockey Elking è stato vinto ancora da Giulio Cocco del Trissino, capitano anche della nazionale italiana. Sguardo anche alla Serie A2 che conterà due promozioni in A1, Cgc Viareggio è prossima all'aritmetico ritorno in prima divisione, mentre l'altro posto sarà giocato nelle prossime settimane da TR Azzurra Novare e Simbol Modena.